Si torna a parlare della problematica degli ex RMI a Palazzo del Carmine. Facciamo il punto della situazione. Sì, il punto della situazione è che dopo la trasmissione della nota della parte dell'assessorato dove indica la ripresa dei lavori per quanto riguarda gli ex RMI in questo momento fermi che bisogna iniziare le procedure per essere avviati. Vari comuni, quasi tutti, hanno espletato questa direttiva di iniziare le procedure. Quindi stamattina siamo al Comune per avere informazioni qual è l'intento dell'amministrazione se avviare immediatamente i lavoratori o ci sono altri problemi che noi non conosciamo. E quindi siamo qua per capire le reali manifestazioni dell'amministrazione. Vogliamo ancora ribadire che c'è un'emergenza sociale che non va sottovalutata. Sono tutti gli occhi di tutti tutto quello che è successo nelle varie province e non solo nei vari comuni. Quello che chiediamo è di mettere un punto fermo su questa grave situazione e di avviare immediatamente tutti i lavoratori per permetterli di avere un sussidio che li permetta di vivere in maniera dignitosa. Tendiamo a sottolineare che già da ottobre ancora ad oggi tre lavoratori sono spesi e non hanno usufruito nessun sussidio per andare avanti. Ci sono situazioni drammatiche e ancora sotto il Comune ci sono questi lavoratori che attendono una risposta immediata. Non hanno più nemmeno un euro per permettere ai figli di andare a scuola, per pagare le bollette, mettere qualcosa all'interno della pendola. E quindi il nostro intervento, se può sembrare insistente su questa vicenda, è perché c'è un'emergenza sociale che non deve essere sottovalutata da nessuno.